Cari amici, 2 giugno 1992. Il Britannia, il panfilo reale britannico, è ormeggiato a Civitavecchia. A bordo si tiene un incontro, i cui contenuti però resteranno segreti. Una sorta di mini crociera organizzata dai British Invisibles, il gruppo di interessi finanziari della City costituito sulle intuizioni del giornalista William Clerk. Mario Draghi, giovanissimo direttore generale del Tesoro, partecipò a questa riunione su mandato del ministro del Tesoro Guido Carli. L'anno dopo, nel 1993, chiamato a riferire in Parlamento, Draghi racconterà di essere salito a bordo del Britannia, ma solo per leggere il suo discorso. Dopodiché racconta di essere sceso, subito dopo aver letto il discorso, è salito, ha letto il discorso e poi sarebbe sceso. Peccato solo che tutto, come abbiamo appena detto, avvenne nel totale segreto. Pensate che c'è addirittura, chi giura, chi testimonia di aver visto con i propri occhi, scendere dal Britannia Beppe Grillo. E trovate il link a questa videotestimonianza nella descrizione di questo video insieme alle altre fonti. Lo scioglimento delle Camere, decretato da Francesco Cossiga, il 2 febbraio 1992, la firma, cinque giorni dopo, del trattato di Maastricht, in cui Carli ha un ruolo chiave. Le elezioni di aprile, con la prima affermazione della Lega Nord, l'accelerazione di mani pulite. Quel 2 giugno arriva pochi giorni dopo la strage di Capaci e l'elezione di Scalfaro. 1992, 11 anni dopo il divorzio tra il Tesoro e la Banca d'Italia del 1981, ad opera di Ciampi e di Andreatta. Eh già, Andreatta, quello che poi firmò l'accordo sulle imprese italiane che portò alla successiva liquidazione dell'Iri. In quel periodo alcuni esponenti dell'alta classe dirigente italiana si adoperarono e si adoperarono proprio con grande forza per ridurre l'intervento pubblico, per ridurre la presenza pubblica. E tra queste personalità spiccano senza dubbio Guido Carli, Andreatta e Ciampi. E già Ciampi, l'uomo che l'oligarchia finanziaria impose come governatore della Banca d'Italia al posto di Baffi, dopo aver fatto fuori l'integerrimo Paolo Baffi con accuse false e del tutto infondate, Baffi, che fu costretto alle dimissioni nell'ottobre del 1979. Il 16 settembre 1992 Soros fu protagonista di un attacco speculativo che portò al nostro paese una perdita valutaria pari a 48 miliardi di dollari. In quel solo giorno fatidico Soros guadagnò circa un miliardo di dollari. Come se i prezzi non fossero già abbastanza bassi. Sì, perché l'Italia aveva già deciso di regalare i suoi gioielli. Ma evidentemente questo agli squali della finanza, ai banchieri, ai banksters non bastava. E quindi, grazie all'intervento di Soros, otterranno ulteriori sconti. Il discorso di Mario Draghi è un vero e proprio osanna alle privatizzazioni. Anche se il Fatto Quotidiano cerca in qualche modo di difenderlo, cerca in qualche modo di riabilitarlo anche per tramite del suo vice direttore, Feltri. Fresco fresco di partecipazione al Bilderberg. E poi comunque la domanda sorge spontanea. O meglio, il dubbio è lecito in questo caso. Siamo sicuri che quello pubblicato dal Fatto Quotidiano sia realmente il discorso che Mario Draghi pronunciò nel 1992 a bordo del Britannia? E perché farlo venire fuori proprio adesso? Per quale ragione pubblicarlo ben trent'anni dopo? Comunque, prima di analizzare il discorso di Draghi, pubblicato dal Fatto Quotidiano, è giusto ricordare le parole di Cossiga a proposito di Mario Draghi e della sua ipotetica candidatura a presidente del Consiglio. Mario Draghi, impossibile immaginarlo a Palazzo Chigi, è un vile affarista che venderà l'economia italiana e così avrà modo di svendere, come ha già fatto quando era direttore generale del Tesoro, quel che resta dell'industria pubblica a qualche cliente della sua antica banca d'affari. Bene, ora passiamo alle parti più significative del discorso pubblicato dal Fatto Quotidiano. Alcuni progressi sono stati fatti nel promuovere la vendita di alcune banche possedute dallo Stato ad altre istituzioni criptopubbliche e per questo la maggior parte del merito va a Guido Carli, ministro del Tesoro. Ma per quanto riguarda le vendite reali delle maggiori aziende pubbliche al settore privato, è stato fatto poco. Non deve sorprendere perché un'ampia privatizzazione è una grande, direi straordinaria, decisione politica che scuote le fondamenta dell'ordine socio-economico, riscrive i confini tra pubblico e privato, induce un ampio processo di deregolamentazione, indebolisce un sistema economico in cui i sussidi alle famiglie e alle imprese hanno ancora un ruolo importante. Insomma, il concetto è chiaro, le privatizzazioni sono una cosa straordinaria. Oggi, invece, sappiamo che questa visione del mondo provoca un cortocircuito democratico e non riflette più i reali valori tra economia, società e politica nel contesto europeo. Primo, la privatizzazione è stata originariamente introdotta come un modo per ridurre il deficit di bilancio. Più tardi abbiamo scoperto, e l'abbiamo scritto nel nostro ultimo rapporto quadrimestrale, che la privatizzazione non può essere vista come sostituto del consolidamento fiscale, esattamente come una vendita di asset per un'impresa privata non può essere vista come un modo per ridurre le perdite annuali. Gli incassi delle privatizzazioni dovrebbero andare alla riduzione del debito, non alla riduzione del deficit. Quando un governo vende un asset profittevole, perde tutti i dividendi futuri, ma può ridurre il suo debito complessivo e il servizio del debito. Quindi la privatizzazione cambia il profilo temporale degli attivi e dei passivi, ma non può essere presentata come una riduzione del deficit, solo come il suo finanziamento. Il consolidamento fiscale da mettere a bilancio per l'anno 1993 e i successivi non dovrebbe includere direttamente nessun ricavo dalle privatizzazioni. Nel contempo dovremmo avviare un piano di riduzione del debito con gli incassi delle privatizzazioni. Ciò implicherà più enfasi del Tesoro sulle implicazioni economiche complessive delle privatizzazioni e sul obiettivo ultimo di ricostruire gli incentivi per il settore privato. Da un lato Mario Draghi dice una verità, perché è vero, no? Vendere un asset non significa necessariamente ridurre le perdite annuali, ma una cosa è certa, e cioè che vendere un asset significa rinunciare ai dividendi, rinunciare a un profitto, rinunciare a delle vendite future. Ma il tragico è che secondo Draghi non bastava regalare le nostre aziende, le nostre imprese, come ha fatto Draghi, con la complicità dei banksters della Goldman Sachs. No, poi bisognava usare i soldi ricavati per pagare il debito, per ridurre il debito. Insomma, è un po' come se uno va da un comprooro, gli porta un anello d'oro con un diamante grosso così, e in cambio riceve, che cosa? Meno del valore dell'oro. Insomma, gli regala il diamante e si porta via meno del valore dell'oro. E poi Draghi pretendeva che questo piccolo ricavato venisse nuovamente regalato ai banksters, ai mercati, che sono gli stessi, che hanno creato questo debito, che per sua stessa natura è inestinguibile. Secondo, la privatizzazione implica un cambiamento nella composizione della ricchezza finanziaria privata dal debito pubblico alle azioni. L'effetto di riduzione del debito pubblico può implicare una discesa dei tassi di interesse, ma l'impatto sui mercati finanziari può essere molto più importante. Quando vediamo che la qualità di ricchezza privata in forma di azioni è piccola in relazione alla ricchezza privata totale e che con le privatizzazioni può aumentare in modo significativo. Le privatizzazioni porteranno molte nuove azioni in questi mercati. L'implicazione politica è che dovremmo vedere le privatizzazioni come un'opportunità per approvare leggi e generare cambiamenti istituzionali per potenziare l'efficienza e le dimensioni dei nostri mercati finanziari. Insomma, privatizzare per potenziare l'efficienza e le dimensioni dei nostri mercati finanziari. Tre privatizzazioni e crescita. In molti casi vediamo le privatizzazioni come uno strumento per aumentare la crescita. Nella maggior parte dei casi la privatizzazione porterà a un aumento della produttività con una gestione migliore o più indipendente e a una struttura più competitiva del mercato. La privatizzazione quindi potrebbe parzialmente compensare i possibili ma non certi effetti di breve termine di contrazione fiscale necessaria per un bilancio più equilibrato. In alcuni casi per trarre beneficio dai vantaggi di un aumento della concorrenza derivante dalla privatizzazione potrebbe essere necessaria un'ampia deregolamentazione. Questo processo se da una parte diminuisce le inefficienze e le rendite delle imprese pubbliche dall'altra parte indebolisce la capacità del governo di perseguire alcuni obiettivi non di mercato come la riduzione della disoccupazione e la promozione dello sviluppo regionale. Tuttavia consideriamo questo processo privatizzazione accompagnata da deregolamentazione inevitabile perché innescato dall'aumento dell'integrazione europea l'Italia può promuoverlo da sé oppure essere obbligata dalla legislazione europea noi preferiamo la prima strada le implicazioni di policy sono che a un grande rilievo verrà dato all'analisi della struttura industriale che emergerà dopo le privatizzazioni e soprattutto a capire se assicurino prezzi più bassi e una migliore qualità dei servizi prodotti b nei casi rilevanti la deregolamentazione dovrà accompagnare la decisione di privatizzare e un'attenzione speciale sarà data ai requisiti delle norme comunitarie c dovranno essere trovati mezzi alternativi per perseguire obiettivi non di mercato quando saranno considerati essenziali in breve le privatizzazioni vanno fatte perché perché ce lo chiede l'Europa e io aggiungerei perché ce lo chiedevano anche i mercati e i banksters comunque mario draghi sa benissimo che svendendo i suoi gioielli per lo stato dopo sarà impossibile difficilissimo se non impossibile poi intervenire per esempio per ridurre la disoccupazione piuttosto che per promuovere la crescita e inoltre draghi vede solo effetti positivi nelle privatizzazioni aumento della produttività una gestione migliore un aumento della competitività dei mercati e in realtà però oggi sappiamo che è accaduto esattamente il contrario e che gli sforzi successivi del tesoro per regolamentare i mercati finanziari non hanno certo impedito casi eclatanti come per esempio quello di Telecom che ha vissuto l'Italia con la Telecom ha vissuto una stagione di impoverimento tecnologico e la Telecom è un esempio lampante del fallimento delle privatizzazioni il sistematico disinvestimento dello Stato dalle proprie competenze tecniche ha reso di fatto impossibile un rapporto sano tra il pubblico e il privato specialmente in certi settori regolati come per esempio le infrastrutture un caso lampante sono le autostrade i pedaggi i pedaggi sono cresciuti a dismisura abbiamo dei pedaggi carissimi c'è una totale assenza di manutenzione tutto è improntato sul mero guadagno sulla pelle dei cittadini italiani e poi ovviamente oltre il danno anche la beffa perché sono proprio gli italiani che hanno pagato per costruire queste autostrade quarto privatizzazioni e depoliticizzazione un ultimo aspetto attraente della privatizzazione è che è concepita come uno strumento per limitare l'interferenza politica nella gestione quotidiana delle aziende pubbliche a cosa dobbiamo fare attenzione per valutare la forza del mandato politico di un governo che voglia veramente privatizzare primo occorre una chiara decisione politica su quello che deve essere considerato un settore strategico non importa quanto questo concetto possa essere sfuggente è comunque il prerequisito per muoversi senza incertezze secondo visto che non c'è una toucher alle viste in Italia dobbiamo considerare un insieme di disposizioni sui possibili effetti delle privatizzazioni sulla disoccupazione se essa dovesse aumentare come effetto della ricerca dell'efficienza sulla possibile concentrazione di mercato e sulla discriminazione dei prezzi quest'ultima in particolare per la privatizzazione delle utility terzo occorre superare i problemi normativi un esempio importante le banche che secondo la legislazione antitrust non possono essere acquistate da imprese industriali ma solo da altre banche da istituzioni finanziarie non bancarie sim fondi pensione fondi comuni di investimento imprese finanziarie da compagnie assicurative e da individui che non siano imprenditori professionisti in pratica siccome in Italia non ci sono virtualmente grandi banche private gli unici possibili acquirenti tra gli investitori domestici sono le assicurazioni o i singoli individui una limitazione molto stringente qui giunge in tutta la sua importanza la necessità che le privatizzazioni siano a complemento di un piano credibile di riduzione del deficit soprattutto per ridurre la creazione di debito pubblico solo se abbiamo successo nel compito di ridurre continuamente e sostanziosamente il nostro rapporto tra debito e PIL come richiesto dal trattato di Maastricht troveremo spazio nel portafoglio degli investitori allo stesso tempo l'assorbimento di queste nuove azioni può essere accelerato dall'aumento dell'efficienza del nostro mercato azionario e dall'allargamento dello spettro degli intermediari finanziari qui il pensiero va subito alla creazione di fondi pensione ma di nuovo i fondi pensione sono alimentati dal risparmio privato che da ultimo deve essere accompagnato dal sistema di sicurezza sociale nazionale verso i fondi pensione ma un ammanco dei contributi di sicurezza sociale allo schema nazionale implicherebbe di per sé un deficit più elevato questo ci porta a una conclusione di policy sui fondi pensione possono essere creati su una base veramente ampia solo se il sistema nazionale di sicurezza sociale è riformato nella direzione di un sistema meglio finanziato o più equilibrato rispetto a quello odierno la conclusione generale è che la privatizzazione è una delle poche riforme nella vita di un paese che ha assolutamente bisogno del contesto macroeconomico giusto per avere successo lasciatemi sottolineare ancora che non dobbiamo fare prima le principali riforme e poi le privatizzazioni dovremmo realizzarle insieme di certo non possiamo avere le privatizzazioni senza una politica fiscale credibile che ne siamo certi sarà parte di ogni futuro programma di governo perché l'aderenza al trattato di Maastricht sarà parte di ogni programma di governo lasciatemi concludere spiegando nella visione del tesoro la principale ragione tecnica possono esserci altre ragioni legate alla visione personale dell'oratore che vi risparmio per cui questo processo decollerà la ragione è questa i mercati vedono le privatizzazioni in Italia come la cartina di tornasole della dipendenza del nostro paese dai mercati stessi dal loro buon funzionamento come principale strada per riportare la crescita poiché le privatizzazioni sono così cruciali nello sforzo riformatore del paese i mercati le vedono come il test di credibilità del nostro sforzo di consolidamento fiscale e i mercati sono pronti a ricompensare l'Italia come hanno fatto in altre occasioni per l'azione in questa direzione i benefici indiretti delle privatizzazioni in termini di accresciuta credibilità delle nostre politiche sono secondo noi così significativi da giocare un ruolo fondamentale nel ridurre in modo considerevole il costo dell'aggiustamento fiscale che ci attende nei prossimi cinque anni insomma un discorso che a tratti fa venire i brividi specialmente quando parla per esempio delle banche della vendita delle banche e questo è un aspetto che approfondiremo bene nei prossimi video andremo a vedere come quali banche sono state vendute quali imprese eccetera e quanto si è ricavato e quanto invece si sarebbe potuto ricavare da queste vendite comunque il discorso di Mario Draghi promuove senza indugio senza tentenamenti le privatizzazioni e le promuove come una via indispensabile ed irrinunciabile peccato solo che oggi sappiamo bene che in realtà ci hanno fregato un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti